Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi vediamo l'esercizio del Carle eseguito con i manubri da seduto. Iniziamo l'esercizio con una flessione dell'avambraccio sul braccio, espiriamo nella fase di salita, inspiriamo quando andiamo a distendere le braccia. In questo esercizio, come per tutti gli esercizi di flessione che prevedono l'allenamento della parte anteriore del braccio, è importante tenere il gomito fermo e mantenere il focus sul muscolo target. I muscoli implicati in questo movimento sono il bicipite, il braccio radiale e il muscolo del deltoide come stabilizzatore. Se eseguito con la giusta tecnica di esecuzione, questo esercizio consente un ottimo arco di movimento per poter lavorare il bicipite nella sua interezza. iniziamo l'esercizio con un ottimo arco di movimento per poter lavorare il